Bene ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono AJ e oggi siamo in questo nuovo video Allora ragazzi, come potete vedere qua hanno aggiunto nuovi stili dell'ossiasso, l'evento dove c'è anche questa bellissima capanna tutta per arrivare Beh, ci sono state modifiche in questa skin, che sicuramente spero che tenga così perché mi piace Comunque adesso vi faccio vedere un attimo, però prima il nuovo stile di rimedio versus tussina Cioè, ditemi voi se non è un bello stile E' bello, non so come si sblocca ma è bello, magari si vede, no non si vede Non si vede niente, non si vede, quindi non so se ci saranno delle sfide di come cazzo si chiamano, eh sì vabbè lo straordinario mondo di Gumball Volevo far vedere una novità di questa skin perché guardate che cosa succede se io seleziono lo stile bianco E spero che lo tenga così, eh Non ce l'ho solo io, non è un bug, non è niente, è semplicemente un virus che non è, non la fa, cioè, l'ha fatto proprio l'epic ma non è un virus, non c'è un virus l'epic E' semplicemente questo skin che ha un virus, ma è un po' difficile da spiegare In questo, questo skin in gioco, non so, non l'abbiamo visto noi, hanno installato questo, questo, questo virus che è un virus Però l'epic non è un virus, l'hanno fatta proprio così, quindi, significa che a questa skin è successo qualcosa E spero che in futuro lo scopriremo, però, è bello, è veramente bello Comunque ragazzi, non so se continuare per molto a farmi lo suo forte perché, cioè, sta un po' annoiando, mi sta un po' annoiando E poi anche agli altri, non è che c'è proprio tutto sto splendore, però Il 23 dovrebbe uscire una nuova, no, no, un nuovo pack Diventa 20 euro, ok, io Me lo compro E vai No, ragazzi, questa schermata non mi compariva ma da tanto tempo Mi fa venire dei ricordi, raga Questo è bosco blanterante Mi ricordo tutti i nomi delle mappe Tutti Tutti Cioè, sì, delle mappe, delle città Mi ricordo tutti perché Madonna, raga, mi manca troppo quella mappa Mi manca troppo Spero che ritorni Lo spero Lo spero veramente Siamo nel capitolo 2 però, raga, quindi non credo che tornerà Ah, che caccio Vabbè, vediamo subito se riusciamo a fare un bel giretto di win, di kill e di tutto Ah, sì, raga, che adesso l'autobus è così L'ho visto una volta solo L'ho visto solo una volta Perché io, visto che non ho giocato nella season 2, purtroppo L'ho visto nella season 7 E questo season Quindi, ragazzi Non l'ho visto molte volte Quell'autobus Quindi non mi ricordo molto la musichetta Però è veramente bella Come qua, ragazzi Non so se l'avete notato Ma in alcune parti della mappa esce fumo Non so, ragazzi, cosa potrebbe Qualcosa mi dice che qualcosa è andato storto con questa macchina Cosa è successo Ah, c'è pure una cosa di expert Dopo me la vado a prendere Cosa è successo, raga Ma lo vedete che Cioè, dalla scorsa Dalla scorsa parte Che l'hanno fatta appena adesso Però, dalla scorsa scorsa Si è successo un botto di cose Cioè, non si capiscono minchia Comunque, ragazzi Sì, è più bella così Cioè, restire bianco sicuramente Mi faceva un po' cagare Non è per schifo Ma mi faceva un po' cagare Quindi io usavo sempre quello nero Vabbè Non credo di non avrei mai fatto video con questa skin Cioè, almeno credo Però, ragazzi, spero che la tengano così Spero vivamente che la tengano così Perché è bella È bella Cioè, mi fa sentire un po' player O magari La tolgono Ma lo mettono come stile Con un'arma elegante Più tempi Più civile Cioè, cosa vuol dire un'arma elegante? Scusatemi Cioè, non l'ho capito Eh, vado un attimo a prendere ora Il punto di esperienza E vado a vedere quella macchina Eh, ma mi sa che c'è stato un fulmine qua Qualcosa è andato storto? Vabbè, già qua 20 miglia Il tempo fa cagare Però Lasciamo stare Ti aiuto Ok Non è ancora stata distrutta Quanto parte No Perciò fosse l'arcog Ci ho sperato per un attimo Perché avevo visto la granata Sopra l'air No? E quindi ho detto Oh mio dio È l'arcog No Cazzo Mi manca quell'arcog Anche se non lo usavo mai Ma mi manca Perché è veramente Veramente figo È veramente figo Allora Coronare Mi ha legato i pertempi Più civile Finigliati Non lo so Cosa cazzo vuol dire Però Vabbè Cerchiamo di fare una win Un pochino Bella Bellina Diciamo Perché Voglio fare win Sinceramente Non perché sono Competitive Che vuole uccidere tutti Eh Però Vorrei fare una win Cioè Almeno quando fosse un video Vorrei fare almeno una win Magari Non una win Ma una pentita bella Magari Una partita bella È una partita che fa cagare Oppure Non gioco neanche Non so Allora 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 Ehm Che è questo Ragazzi io vi voglio Comunque Cioè Scrivete nei commenti Chi vorrebbe la vecchia mappa E c'è anzi Poi 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 L'evento è solo Di dialoghi All'inizio c'è stato C'è stato un combattimento Quindi tutti pensavano Oh mio Dio La distruzione del mondo Poi Atterrata la naricella Hanno detto Oh mio Dio Non è che dobbiamo salire No Ci sono stati i dialoghi Domande Vaffanculo C'è no scusate Ma vaffanculo C'è Fortnite X school No Non school trooper Proprio la school Scuola Quella roba Quella bellissima roba Non scherzo Ovviamente La scuola è bella Però Roppo i coglioni Comunque Qua c'è una persona Perché ha distrutto Appena adesso Un airdrop Ok Raga Siamo in 32 Purtroppo Non ho fatto molte kill Però adesso Chi se ne frega Vediamo un po' Comincio un po' A costruire Come non c'è nessuno Come Io lo apro Eh Oh Sì 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 No No E che cosa sto facendo Dammi Grazie Non è che magari Che spavento Madora Che infarto Che mi ha fatto prendere Sto figlio di puttana Quasi Sarebbe sempre Una bella tattica Però Non ha funzionato Mi spiace Oh mio dio Non l'avevo visto Mi fai Mi fai salire Grazie Meno male che Qua C'hanno dei shield Ah solo Solo No aspetta Ce ne sono altri Le foci Se perdevo vita Mi potevo leggermente In cacciare No Ah ecco Minchia Ragazzi Madonna ragazzi Non riesco Sono impedito Oggi Allora ragazzi Stavo dicendo Ho trovato Un bellissimo Lanciaganate Lanciaganate Lanciapuffi Ragazzi È bellissimo Questo lanciaganate È veramente figo Mi piace tantissimo Vorrei che fosse L'unico lanciaganate In gioco Perché dopo P Che appena Tocca il nemico Esplode Cioè Wow Wow È veramente Bello Il cieco No Anche sì No No Preferisco No Preferisco Lì no Non ho capito Non ho capito Che cose sono Ste cose Cioè Non ho ben capito Ok Grazie 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 Ok Grazie No No grazie Ok 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 Basta Sti cecchini I I I Vediamo Sudito Ragazzi E allora Siamo in 22 Io direi Di pushare un pochino Ho pochi materiali Però È vero Me ne fammo un po' Me ne fammo un po' Ci saluterai Perché Siamo Lieti Del mondo Di E Molto Poi mi danno Copicare Anche se Non so Non so Cantare Non so neanche L'italiano Figuriamoci Francese E anche Irlandese Ok Abbiamo cantato Abbastanza Abbiamo farmato Abbastanza Anche abbiamo cantato Comunque ragazzi Ho scoperto Un nuovo gioco Di Half-Life Che non è Half-Life Alex Nel 2020 Con La La Rialta virtuale Quindi con Il visore La VR Ma Arctic Adventure Non so Magari lo porto A iniziare le vacancie Quindi Domani Perché io Non vado Perché sono Un po' Impegnato Che dovevo andare A fare una visita Però Come dire Non so più Parlare Caccio Cosa volevo dire Ah si Che c'è Quindi Mi sa che io Il Arctic Adventure Lo porto Giovedì E Lo carico Venerdì mattina Quindi 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 se state guardando Questo video Venerdì mattina Vedrete Il nuovo video Di Arctic Adventure Perché io Giuro Che non ho mai visto Uno youtuber Che l'ha fatto Non so Io Credo di essere stato Uno dei primi A giocarlo Perché veramente Non è uscito Neanche da troppo È uscito Da poco Poi Guardami A data Ma è uscito Da poco Non è uscito All'altro Quindi ragazzi Ve lo porto Siamo in 11 E ho ancora una kill E c'è un po' Per vergognoso Sto camperando Come lo schifo Ma dovete capire Che per me Per fare Una win Bisogna Camperare Come lo schifo Ma ve l'ho detto Per caso Che Sì Sì L'ho detto Se siete curiosi Di saperlo E C'è Non sapevo Se vi avevo già detto Che il bar Si esce Il 23 Di dicembre Mi sembra di sì Ve l'ho già detto Vediamo subito Allora Se si è tornato Gente Adesso basta Basta chiacchiere Adesso Io voglio trovare Gente E Vedere E voglio E voglio Assolutamente Far vedere Il mio Bel culo Del virus Ho sentito Il rumore E spero Che non sia Un tuono Ah no È la tempesta Ma non è che Sono i tuoni fuori No Sono confuso Se sono i tuoni Di questa tempesta Oppure i tuoni fuori C'è Non so No No mi sa che però Sono i tuoni Qua Che è Nel gioco Spero di sì Perché Potrei leggermente Incazzare E vediamo E vediamo Me ne infischio Il cazzo di queste Ma che cosa Sto dicendo Il Natale No No c'è la spada No No La spada È troppo Pi Meglio Meglio Prendere Un attimo Dai Vieni No 39 Dai Esco a ucciderlo Magari No Ah ma che cosa Stavi pensando Di fare Di fregarmi Bene A quanto pare Non ando Allora 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 Io ti ho visto Non è Che ti ho visto E faccio finta Di niente Io no Io ti ho visto E sinceramente Adesso ti voglio Un po' Fissare Oh Mi hai visto Prima tu 70 No raga Guardate Quante foto Sto lacciaghenate Lo amo Raga Lo sto amando Sto lacciaghenate No Però sto albero Non lo amo Oh Spascia Però L'ho uscito Oh Lo sky Silenziato E' vero Che l'hanno Riaggiuto Mi ho già Dimenticato No ragazzi Ma voglio tenere Sto lacciaghenate E' bellissimo E' bellissimo Vorrei che fosse L'unica arma In gioco Non è l'unica Lanciaghenate L'unica arma In gioco E' bellissima Sì Sì Lo ci c'è Lo ci c'è Col pompa Però Minchia Gli ho fatto male Prima Dai ragazzi Proviamo a vincere Su Magari Non abbiamo Tante kill Ma proviamo a vincere Dai su Saluto anche Di livello Troppo Non mi è su Neanche accorto No 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 Bene Ero anche pieno Ho perso tempo Per niente Allora Allora Devo andare Lassù C'è La cosa brutta Però di queste Skin E' che ti vedono Ti vedono Da un Vuoto Di stanza Cosa ho appena Detto Cosa ho appena Detto Quindi questo Cazzo Aia Mi ha preso Però Però mi furro Ok Cosa ho appena No Però Gli ho fatto male Uia Aiaiaia Aiaiaia Mi ha fatto male Però Mi rifullo Perché c'è anche C'è qualche Medica Mi furro Con la vita E c'è anche La porzione sotto Quindi Sono a posto Allora Vediamo Ah sono Uno di uno Interessante Allora Non credo Che mi serva La vita Full E lo scudo Full Credo Credo di aver capito Dov'è Credo di aver capito Vabbè Già che Chi sono Già che Chi sono Ragazzi Me ne approfitto C'è Chiaramente Mi va bene Ma dai Se facciamo Win C'è Kill Oddio Ce la facciamo Perché magari Non la facciamo Neanche Sì ragazzi Secondo me Proviamo a sparare Vediamo se ci arriva E va a far culo Tu spammi E io spammo Contento Così sei contento Che tu Mi faccio Squirtare Un po' Di materiali Oh è bianco 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 Vabbè Non voglio Cacceggiare Madonna L'avevo mancato Prima L'avevo mancato Vediamo un po' Questo Ragazzi Ragazzi Win E ci beviamo Una water La water Ce la facciamo Mi C'è sì Ce l'abbiamo tenuta La water Yeah Comunque ragazzi Questo video Ragazzi Si conclude qua Mecci inverno Sfide Ah Aspettate ragazzi Visita il rifugio Vediamo un attimo Si può aprire Si Si può aprire Vediamo 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 Da pesce secco Chi è pesce secco Felice mezzo inverno Grazie Scegli me No ragazzi credo di aver già capito credo di aver già capito però non posso aprirlo mi sa wow aspettate aspettate torniamo un attimo in lobby eh si ogni giorno possiamo ottenere un nuovo coso allora questo oh questo è il deltaplano del 2020 wow che bello no la cioccolata calda raga chi non la mangia o beve è buonissimo questo è bellissimo quindi abbiamo ottenuto anche un nuovo remote quindi ragazzi ogni giorno otterremo cioè dobbiamo semplicemente toccare qua e andare su regalo qualsiasi e poi scegliere e poi teniamo oppure poi teniamo premuto e per aprirlo quindi ragazzi ogni giorno otterremo delle cose magari anche schini caldo caldo vediamo cos'è oggi è 18 dicembre cosa è 18 dicembre 6 gennaio non è la 6 gennaio ah che dura dal 18 al 6 gennaio immagino cioè almeno credo ma se clicco il cazzo no non posso neanche cliccarlo non posso cliccare il cazzo siete cattivi voglio vedere cosa succede ma sta bevendo cos'è sta cioccolata calda però che acqua lasciamo stare comunque ragazzi con questo sfondo bellissimo aspettate altre informazioni scarto regalo di atto il tuo giornaliero per 14 giorni e torna per uno ospite ogni giorno vedi vedete ragazzi ho ragione e qui ragazzi domani ovviamente scelgo quello più grande eh che cazzo magari c'è una schiena magari si ottengo le schiena comunque ragazzi oh cos'è tieni premuto eh non mi dire che otteniamo un regalo poi qua i flicci danni gli avversari con una mi sembrano un'ottima quindi abbiamo ottenuto una sfida ah ne abbiamo saltata una grazie spero che questo video ragazzi vi sia piaciuto con questo sfondo bellissimo del rifugio spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao